Assessore, l'amministrazione comunale prende provvedimenti anche nei confronti di quei cittadini indisciplinati che continuano a conferire in maniera scorretta i rifiuti, specialmente all'interno dei canali, procurando un grave danno? L'amministrazione ha deciso di concerto tra l'assessorato del territorio ambiente e l'assessorato al controllo del territorio ad avviare delle azioni di monitoraggio e controllo attraverso le verifiche degli stessi rifiuti scaricati. la provenienza per arrivare al singolo utente che li scarica. Difatti abbiamo notato già che parte di questi rifiuti sono rifiuti che derivano da attività commerciali, quindi c'è un'attenzione particolare, ma c'è ancora un'attenzione particolare a tutte quelle discariche abusive perché non permetteremo più la discarica indiscriminata di rifiuti che verrà pulita come previsto da legge. Chiederete di attivare anche delle indagini in merito, cioè state cercando di capire quale sia la provenienza di questi rifiuti addirittura? L'intenzione è quella di risalire tramite il codice a barra, i servizi di tracciabilità che sono sul prodotto, al grossista almeno che ha venduto quel prodotto e se è possibile trovare direttamente il dettagliante che ha comprato la cosa se si tratta di esercenti di attività commerciali, quelli sono facilmente individuabili. Successivamente faremo una riunione con tutte le forze dell'ordine e soprattutto con il proprietario dei canali di scolo, che sarebbe il consorzio di bonifica, per capire quale attività possiamo istituire per un controllo più attento di questi due canali che sono fondamentali per la città di Gela. Quale potrebbe essere il motivo per il quale un cittadino da Gela debba andare in periferia, in città o comunque nei terreni limitrofi al comune della città di Gela per conferire rifiuti e quindi procurare il formarsi poi di discarichi abusive? Perché il cittadino non riesce a differenziare, non è organizzato, probabilmente quando è stata attivata la raccolta differenziata è stata fatta in maniera improvvisata, non effettuando gli appositi istituti di formazione, cercando di formare il cittadino ad arrivare alla raccolta differenziata, applicando la raccolta differenziata quartiere per quartiere e monitorarla. Quindi noi ci ereditiamo una condizione della precedente amministrazione che non ha saputo o non ha voluto, questo poi sono stati i cittadini a deciderlo, organizzare per bene la raccolta differenziata dei rifiuti. Grazie